Il dottor Barti è desiderato a tutti i suoi corsi. Il dottor Barti è desiderato a tutti i suoi corsi. Hai falsificato di nuovo la mia firma sulle ricette? No. Quello che hai detto implica che avessi smesso di farlo. 20 minuti fa ho detto a tutte le farmacie locali di chiedere la mia autorizzazione verbale prima di evadere le prescrizioni. Hai idea di quanto lavoro in più ti costerà? Non resisterai una settimana? Haos, ho lasciato correre per anni, ma ora basta. È a rischio il tuo fegato, l'udito, per non parlare del fatto che ogni ricetta che scrivi è un reato distinto. Finirai in prigione e anch'io. Hai scelto questo momento per rompere perché prendo il vicolo? Questa te la sei prescritta tre giorni fa e ora è quasi a metà. Mi fa male la gamba. Dovrebbero durare un mese. La quantità che ne prendi non ha niente a che fare col dolore fisico. Ok. È vero, magari tento di stordirmi un po'. Perché sto provando a cambiare. A smettere di essere autolesionista. Allora puoi riuscire a non essere autolesionista essendo autolesionista. Ma cosa vuoi da me? Non lo so, Haos, ma sono preoccupato per te. Non so quanto potrò stare a guardare mentre ti fai del male. Ora sei finito qui, la prossima volta finirai all'obitorio. Tu sei infelice e sei arrabbiato. Voglio che tu affronti il dolore veramente e non che tenti di eliminarlo con i farmaci. No. Sai cosa provo adesso? Non mi sento infelice né arrabbiato. Non mi sento né bene né male. Io non provo... Niente. Ed è fantastico. Che cosa fai? Vado avanti. In direzione della mia casa. La ho più pillole. La ho più pillole. Grazie a tutti